Siete in pochi eh? E oggi si, già qualcuno... Ma la domanda... Ma ieri sera l'ha successo a me come si... Come si è comportato? Dico solo che già mi ha dato due cazzocchi. Quindi? Quindi si è comportato come sempre, malissimo. Ma è vero, è vero. No, malissimo. La verità è che fino a che è stato con me era un accio. Benissimo. Benissimo. Con Filiberto, malissimo. A Natale si comporta bene, adesso malissimo. Anche il giorno del confronto. Sono l'ho capito, stasera vuole vedere la partita, eh? Eh, l'ho capito. Ma dove sei stato che c'è? Me la rompi i coglioni di qui. Dai via, vedi lì, lì. Ciao, andiamo a ricaricare a tutti i tuoi ceboli. Vedi la pace, eh? Federico, come sta a far tutto.